E' concepibile l'idea di vuoto inteso come spazio riempito di nulla. Secondo i filosofi greci era un'idea assurda, contraria alle leggi di natura. Anche per Newton il vuoto cosmico era inconciliabile con le regole dettate dalla fisica, tanto da sostenere che lo spazio esistente tra tutti i corpi materiali nell'universo è riempito dall'etere, un qualcosa di invisibile privo di attrito e tale da consentire il moto senza provocare interferenze su di esso. Nell'Ottocento il tentativo di dare un'interpretazione alla vera natura dello spazio vuoto andò a scontrarsi con un altro fenomeno non meno fondamentale ma altrettanto misterioso, la forza gravitazionale esercitata a distanza. Ci si chiedeva infatti come poteva la stella di un sistema attrarre i pianeti e mantenerli in un'orbita costante se tra loro esisteva soltanto uno spazio vuoto. Evidentemente, ragionò qualcuno, l'etere poteva essere concepito come un campo di forze. Le onde elettromagnetiche, sia elettriche sia radio, dimostravano che era necessario presupporre l'esistenza di un mezzo di propagazione per esse, ma neanche questo bastava a causa di alcune discrepanze. L'esistenza dell'etere, grazie al relativismo dinamico introdotto dalla relatività di Einstein, diveniva un concetto superato a favore di quello di campo elettromagnetico. In base a ciò, lo spazio non è vuoto, è materialmente nulla ma caratterizzato dalla presenza di energia e pressione. Tutto risolto? Neppure per idea. La meccanica quantistica, con la sua visione della natura che ribaltava i canoni classici della fisica, dava un nuovo significato al concetto di vuoto. Il mondo quantistico si presentava come un reame magico, dove tutto era il contrario di tutto e dove le regole d'oro della fisica classica perdevano di valore. Su tutto regnava l'indeterminazione. Tanto per fare un esempio, l'idea che una particella percorresse una traiettoria ben definita partendo dal punto A per giungere al punto B perdeva di ogni significato. Grazie al principio di Heisenberg, pur se dovessimo conoscere la velocità di quella particella e il punto di partenza, non sapremmo mai in che punto dello spazio si trovi in un certo momento e se anche sapessimo la sua collocazione, all'opposto non conosceremmo la sua velocità. Ora, questa indeterminazione non è limitata alle particelle elementari, ma in linea di principio è estesa a tutte le entità fisiche e soprattutto ai campi. Un campo elettrico, per esempio, è soggetto a fluttuazioni delle proprie intensità e direzione a causa proprio delle indeterminazioni quantistiche. Per comprendere meglio questo concetto fondamentale, secondo l'esempio proposto dal fisico italiano Luigi Maximilian Calligiuri, dal cui lavoro è tratto questo video, immagina un contenitore metallico schermato dai campi elettrici esterni e svuotato da ogni forma di materia e di radiazione possibile. Insomma, dovremmo in questo modo avere un contenitore vuoto che più vuoto non è possibile immaginare. Ebbene, nonostante ciò, secondo la fisica dei quanti, all'interno del pentolone esiste la probabilità di misurare in alcuni momenti e in certi punti un campo elettrico diverso da zero. La discrepanza sta nel fatto che su scala macroscopica non c'è alcuna rilevanza di fluttuazioni in questo campo interno, ma su scala atomica le fluttuazioni quantistiche diventano rilevabili dando origine alla comparsa di energia virtuale. Ciò significa che, benché l'intensità delle fluttuazioni quantistiche dei campi vettoriali sia in media pari a zero, l'energia non lo è, giacché il suo valore è indipendente dalla direzione dei campi cui è associata. La domanda è, quanta energia può essere contenuta in un pentolone? Dal punto di vista quantistico, il valore dell'energia contenuta è teoricamente infinito. Come dire, il vuoto non è vuoto, ma può contenere una quantità infinita di energia allo stato potenziale.